Da sia hao, ben tornati! Oggi sono qui per una sorta di collaborazione con un canale Elisa ha un canale che si chiama Love on the Road Vi lascio tutto nel box informazioni se volete anche pochino andare a spulciare Per un anno sono stata praticamente incollata allo schermo per vedere i suoi video perché ha intrapreso un viaggio insieme al marito molto particolare E prima di questo viaggio lei era totalmente disinteressata alla Cina Non sei cinese, non ha studiato lingue orientali, non aveva mai pensato di partire per la Cina e starci un anno per motivi di lavoro Ed è stata lì un anno e ha filmato questa sua esperienza E oggi appunto è qui con me virtualmente Le ho posto delle domande che tra l'altro avete fatto voi sulla mia pagina Facebook Che secondo me possono essere sicuramente molto interessanti Per chi vuole intraprendere l'avventura in Cina Magari trovare lavoro in Cina e non conosce nulla sulla Cina Infatti questo video mi raccomando spolliciatelo tantissimo Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto E anche al suo che vi lascio sempre qui nel box informazioni Dobbando alle ciance io con questo vi saluto Vi lascio le domande e vi lascio ad Elisa Ciao, ciao! Tutto ciò che era la routine Diciamo la svolgevamo senza problemi Quando sei in Italia Prima di partire Secondo me visualizzi i problemi In maniera peggiore di come in realtà sono Ti sembra tutto un salto nel buio Mentre in realtà quando arrivi lì pian piano Passetto per passetto ti apizio a tutto Quindi secondo me adattarsi in Cina È meno difficile di quello che si può pensare Tra i lati positivi e tra i lati negativi della comunità cinese Tra i lati negativi della comunità cinese Che poi secondo me si riflattano anche un po' nella Cina in generale Allora innanzitutto uno è il problema dell'inquinamento Perché dico che è anche un problema della comunità? Perché io spessissimo in Cina ho visto Tutti i giorni vedevo persone Gettare in terra con un'incoranza a spazzatura Ma molto, ma molto, molto di più Di quello che potete vedere in Italia o in Europa E questo atteggiamento del singolo Che ho visto ripetuto un sacco di volte Mi ha fatto pensare Capire il perché Ai grandi livelli La Cina è inquinata Perché se c'è lo stesso tipo di Non curanza Appunto capisco perché sono Il paese al mondo che è arrivato A essere il più inquinato Uno dei più inquinati Quindi questo è questo problema dell'inquinamento Sulla vita di tutti i giorni Vi assicuro che secondo me è lo scoglio È la nota più negativa della Cina in assoluto Inquinamento dell'aria Inquinamento del cibo Inquinamento dell'acqua Un altro lato per me negativo È la chiusura Nel confronto del resto del mondo Per esempio il non parlare inglese In Cina nessuno parla inglese O meglio Non è vero Alcuni lo parlano Ma se voi provate per strada A chiedere a qualcuno Mi scusi dov'è la stazione Banalissima cosa Mi scusi dove posso prendere un taxi Mi scusi Non sto parlando Anche in Italia Obiettivamente non abbiamo Un livello di inglese altissimo Si sa Però lì Trovi davanti un muro Lì parla inglese Solo un determinato tipo di cinese Molto istruito Che magari lavora in un contesto Internazionale Ma la persona comune Per strada Un po' perché è timida In alcuni casi Ma soprattutto Perché davvero non lo sa Non lo parla Quindi un minimo di cinese Di sopravvivenza Indipendentemente Che vi serva o no Per il lavoro Vi serve per vivere Per andare in strada Per prendere un taxi Non potete prendere un taxi A Shanghai Se non parlate Un pochino di cinese Per comprare Per contrattare Sui prezzi Per chiedere Quanto costa Per tante tante cose Quindi Sì Quello secondo me È un altro scoglio E basta Direi in atti negativi Secondo me Quello dell'inquinamento Lo facciamo valere per due Perché È abbastanza grande Lati positivi Della comunità cinese Allora Per me Sicuramente Le loro tradizioni Tradizioni La famiglia L'importanza Che danno Alla famiglia Le tradizioni E per me Questa era una cosa Estremamente interessante Da guardare Da capire Da conoscere In un anno Ne avrò conosciute La metà Neanche Ogni tanto Tramite i miei colleghi Tramite qualche amica Scoprivo Qualche chicane Più della loro Cultura e tradizione Del loro legame Familiari Che sono molto forti Secondo me Un altro lato positivo È l'assenza di criminalità O meglio La bassissima Tassa di criminalità Che ti fa sentire Di vivere in un paese Tranquillo Dove puoi camminare La sera in strada Veramente In tranquillità Terzo lato positivo Che è un paese È un popolo Secondo me Tutto sommato Positivo Gioioso Positivo Sì Secondo me Vive la vita Abbastanza O almeno Questo è quello Che fa sembrare All'esterno Ho visto raramente Dei cinesi Arrabbiati Gridare Nervosi Forse fa anche parte Della loro cultura Non esternare Troppo Questo tipo Di emozioni In pubblico Però Li ho sempre trovati Accomodanti Non freddi Non sulle loro Ma Ha superato Lo scoglio linguistico Ecco Li ho sempre trovati Gentili E piacevoli Vivere in una società Con tanti divieti Come la Cina Ha i suoi lati negativi In Cina Ha censurato Google Gmail Youtube Facebook E quant'altro Si bypassa il problema Con l'installazione Di una VPN Ora non entro nel dettaglio Di che cos'è una VPN Ma molto semplicemente È un meccanismo Che vi permette Di far risultare Il vostro computer Connesso a internet In un paese diverso Dalla Cina Per cui Riuscite ad andare Su tutti questi siti Che ho appena elencato Ci sono delle VPN gratuite Che funzionano così e così E delle VPN a pagamento Che funzionano abbastanza bene Bypassato il problema In questo modo Comunque in Cina bisogna abituarsi A un internet lentissimo Che spesso si pianta E che crea dei problemi E magari la VPN Non sempre può funzionare Nel contesto Degli uffici Nel contesto Lavorativi Si va bene Perché installano Comunque Delle reti Molto potenti Reti domestiche Io non sono Un'esperta Di piani Eccetera Diciamo che Per quello che avevamo noi E quello che sentivo Che avevano anche I vari amici In generale È veramente Molto molto Lenta Ci si fa L'abitudine Venendo dall'Italia I primi giorni Spaccheresti i computer Poi Ti abitui Come ho detto all'inizio Ci si abitua Veramente a tutto Quello che ti sembra Fondamentale In Italia Poi una volta Che sei lì Più appena ti abitui E quando torni in Italia Riapprezzi magari La qualità del cibo Piuttosto che il fatto Che internet Vada veloce Non saprei dire Quali sono i requisiti Fondamentali Per trovare Lavoro in Cina Perché Ovviamente I requisiti Dipendono Dalla professione Che andate a fare Dalla vostra professionalità Sicuramente Una domanda È quella Fondamentale È quella Ma serve Saper cinese Per trovare Lavoro in Cina No Non serve Saper cinese O meglio Dipende Dove volete Lavorare Io ho trovato Che c'è Una grande Differenza Tra le grandi Capitali Come Shanghai In Pechino E la cittadina Cinese Media Media Si fa per dire La loro cittadina Cinese Media Tipo quella Dove vivevo io Che si chiamava Su Zhou Magari ha 8-10 milioni Di abitanti Quindi Io ho avuto La fortuna Che Su Zhou Era vicina Tra virgolette A 30 minuti Di treno Veloce Da Shanghai Quindi Io ho potuto Trovare lavoro Su Shanghai Secondo me Non parlando Cinese Trovare lavoro In una cittadina Come Su Zhou O più piccola È molto più difficile Molto più difficile Mentre Shanghai E Pechino Sono Viene Di aziende E compagnie Internazionali Dove Non è necessario Parlare Cinese Chiaramente Se parlate Cinese È un plus E A quel punto Avete Sicuramente Delle possibilità Anche Nelle altre città Perché comunque La Cina È un paese Dove C'è Molto più Lavoro Che in Italia Quindi Skills Particolari L'unica Secondo me Da segnalare È che bisogna Saper parlare Quindi se è bene Molto bene Nessuno chiede Madrelingua Ovviamente Però Un livello Quello qui Alle alto Da poterlo Usare Anche sul lavoro Magari È la cosa Migliore Perché comunque Poi si lavora Indipendentemente Dal lavoro In quella lingua Lì Il mio lavoro Che è quello Di grafica Non c'entrava niente Con l'ambito linguistico Io non parlavo Cinese Però Comunque Venivo da un background Per cui l'inglese Lo sapevo bene E mi è stato di aiuto Perché Pur essendo grafica E facendo un lavoro Dove in realtà Non devo parlare Più di tanto Poi In pratica Nel lavoro Di team Di ufficio A riassionarsi Col proprio capo Insomma Bisogna Saper parlare inglese Quindi questa è l'unica cosa Che dirai Questa è una deduzione mia Non sono sicura Però forse Cioè andare in Cina E cercare lavoro Come cameriera Probabilmente Ha poco senso Perché preferiscono Un locale Che parla la lingua E che ovviamente Viene pagato molto meno Quindi Secondo me Sono ricercate Delle professionalità Non per forza alte Però Comunque di fascia Media Ecco Spero di essere stata Più o meno chiara Allora Quanto si guadagna? Difficile dirlo così In linea generale Io parlo sempre Per esperienza personale Quindi non prendete tutto Come oro Pecola In Cina Si guadagna Di più Che in Italia Io per esperienza personale Vi posso dire Che Quello che Io guadagnavo In Italia Per svolgere Una determinata Masione Non so Grafica Junior In uno studio Di comunicazione In Cina La mia Ritribuzione Per lo stesso Tipo di ruolo Era Un 80% Quasi il doppio Un 80% In più E E ho visto Un po' Di salari Nel mio ambito E più o meno Io ero un salario Medio Quindi c'era Che addirittura Guadagnava Due volte e mezzo Quello che io guadagnavo In Italia Che magari Un po' Meno Questo per darvi Un'idea Inoltre che vi sto a parlare Di cifre Perché poi Da lavoro A lavoro Cambia Cambia anche tanto Se state andando in Cina Come spatriati Ovvero L'azienda Vi ha mandato là E non è il mio caso Questo è il caso Di mio marito Che è tutto Un altro discorso E ovviamente Le retribuzioni Sono retribuzioni Molto alte Invece Io vi parlo Della persona Che va lì E cerca lavoro A Shanghai Abituati Ai salari italiani Sicuramente Si guadagna di più Però Dipende dal lavoro Dipende dalla compagnia Dipende da tante cose Sì Sono riuscita A integrarmi Con la comunità Cienese Integrarmi Nel senso A convivere In pace Ed armonia Diciamo così È una comunità Ovviamente Completamente Diversa Dalla nostra Io Prima di partire Non ero un appassionata Della Cina Della cultura Cinese Quindi non è che sono arrivata lì E ho abbracciato In tutto per tutto Il loro stile di vita Eccetera Però Ci convivevo bene Era interessante È interessante Ogni giorno Vedere Le loro attività Il loro modo di vivere Ricordo che la mattina Mi svegliavo E vedevo Nel compound Quindi nel complesso Dei palazzi Dove abitavo Nel giardino I pensionati Che facevano Ginnastica cinese La sera Vedevo le signore Che si riunivano Allo stesso punto E facevano danza Cinese Sotto le varie festività Eccetera Ogni volta Scoprivo Delle tradizioni Delle Particolarità Che Rendono la vita Ogni giorno Più interessante E più stimolante Se tornerai a vivere In Cina O come turista Sì Perché no Ho sempre detto Che la Cina Non è un paese Dove vorrei vivere Per sempre Dove vorrei vivere Più di 3-4 anni Per un problema Sempre relativo All'inquinamento È la qualità Del cibo Non intesa come Bontà Del cibo Intesa come Qualità Proprio qualità Inquinamento E quant'altro Quindi io Per queste ragioni Non è un paese Dove vorrei vivere Più di 8 anni E dove terrei I miei figli Per più di 8 anni Anche se si può fare Ho visto tantissime Famiglie Con bambini Famiglie occidentali Con bambini Sono in scuola internazionale Si vive bene Non è che Però personalmente Se potessi scegliere Ecco Ci tornerei a vivere Per un periodo limitato Come ho già fatto Ci tornerei come turista Sì Perché no L'ho vista L'ho vista in tutte le salse L'ho vista abbastanza Però Se capitasse Ci tornerei Ci tornerei volentieri Grazie a China Time Per le domande E ciao Sì Sì Grazie a tutti.